E niente ragazzi, finisce 1-1, pareggio sì giusto, Rodomi Coglioni perché mancavano 5 minuti, abbiamo fatto un primo tempo veramente bello, abbiamo creato almeno 5-6 palle gol tra il primo e il secondo tempo, non l'abbiamo chiusa, non l'abbiamo chiusa, abbiamo fatto un altro errore difensivo stupido, nel loro primo calcio d'angolo, nel loro difensivo stupido che si sono persi l'uomo e infatti quello neo è entrato, ha segnato. Non serve a niente, dopo due sconfitte consecutive, serviva a vincere anche in maniera non convincente come appunto stasera, anche se in realtà comunque non hai giocato malissimo per poter smuovere un pochino la classifica e togliersi dalle zone basse, invece questo pareggio pur magari giusto a livello di gioco non ti serve a niente, soprattutto a livello di morale rimane sempre. Però è palese che non si può fare un campionato con una rosa di 19 giocatori perché è una rosa corta, perché è successo che sono mancati, già siamo corti, poi... Cioè è mancato il nostro attaccante migliore... Il nostro attaccante migliore... Che si è beccato con una rosa... Eh, vabbè, comunque sia, parliamo che la nostra squadra è corta, è corta, è corta... Cioè... Più che altro poi con un campionato in cui ci sono cinque cambe di esposizione, cioè tu puoi anche vincere, magari non avendo degli 11 fenomenali, ma avendo una squadra media con tanti giocatori, non so se hai capito il discorso... In questo caso, secondo me, è più favorito chi ha una squadra buona, ma fatta di tanti giocatori, piuttosto chi, magari come noi, che ha una squadra di 11 giocatori forti, però non ai panchinari... Esatto... E' quello il problema, perché qua, quando questi giocatori forti cominciano a perdere le energie, tu non hai nessuno con cui fargli difiatare, invece magari loro... E' successo la stessa cosa, è entrato Sané, come si chiamava, è entrato... Ferrini... Ferrini... Ok, non è entrato Ferrini, ma loro è entrato Sané e gli ha fatto il gol, questa è la differenza... Però del cazzo, ragazzi, perché era finita, mancavano cinque minuti, cioè... Ne erodano i coglioni, è vero che loro i primi 30 secondi hanno sperato il gol... Sia del primo che del secondo tempo... Sia del primo che del secondo tempo, però a parte quelle situazioni, il resto non ha fatto niente... Anzi, noi ci siamo avuti cinque occasioni da gol clamorose... Diciamo che... Il loro portiere... Il loro portiere era clamoroso sul gol... Però non hai un elemento... Se Gomez non gioca, Pellegrini è un giocatore di talento, si vede, ha i colpi... Però ancora deve crescere... Cioè, bisogna affiancargli un giocatore che se manca Gomez c'è... Perché oggi si è visto che se il portiere non fa quell'erroraccio che non perde la palla... Noi non l'avremmo mai segnato... Nonostante abbiamo fatto un'ottima prestazione... Assolutamente... Però bisogna essere giusti... E bisogna dire le cose come stanno... Perché il Gubbio oggi ha fatto una bella partita... Sì... Ma non abbiamo vinto... Non guarda da casa un punto che non serve a niente... A niente... Perché adesso tu vai a Bolzano... Squadra forte... C'è il rischio che puoi perdere... E ti ritroveresti con un punto in quattro partite... Due anni fa un punto in sei partite... Anno scorso un punto in sei partite... Dovremo fare un punto in sei partite anche stavolta... Non dobbiamo continuare su questa strada... Perché... È vero... Tutti campionati fotocopia... Basta... No... Ma a parte quello... Cioè poi comunque qualcuno potrebbe dire... Sì... Ma sei ancora all'inizio... Si può recuperare... Non vuol di niente... Non vuol di niente... Perché comunque tu ti sei rovinato le stagioni... Proprio per il deficit che hai avuto all'inizio anno... Cioè... Magari... Nel mezzo del campionato sei riuscito a fare dei buoni risultati utili consecutivi... Però... Visto che le prime giornate non hai fatto neanche un punto... Sei sempre stato più dietro rispetto ad altre squadre... Cioè tu non puoi sempre partire con cinque giornate di posticipo se così... Sempre così... Sempre così... Non va bene... Cioè oggi... Se il Gubbio avesse vinto... Non avremmo rubato niente... Non avremmo rubato niente... Però... Come c'è? Però c'era lì che l'Arezzo ha avuto le occasioni clamorose... Ci ha detto bene... Magari segnavano subito... Te andava subito in salita... Non potevi... Non potevi... Non potevi... Non potevi... Perché l'Arezzo è cresciuto tantissimo e tu non sei più rimasto... Sei giocato benissimo il primo tempo... Il secondo tempo... Hai giocato bene... 10 minuti... E poi... Purtroppo... Allora... Dopo il gol dell'1-0... Perché non hai ricambi... Non hai ricambi che ti puoi rifiatare... Non ce l'hai... È quello che ho detto io... Non ce l'hai... Perché a centrocampo... Che è il cuore nevralgico del gioco... Non hai dei ricambi... Che possono dar fiato a Sainz Maza... A Malaccari... A... A... Comunque sì... Ecco giusto... Sadio Kadda... Veramente un grandissimo giocatore... Ha fatto veramente una bella partita... Giovane 99... Che... Farà parlare di sé... Però il problema è questo appunto... Cioè guarda... Lo si vede sia nella prima... Che nella seconda... Che nella terza partita... Noi siamo sempre calati... Cioè... Uno ce l'abbiamo fuori... Uno è una nazione... Abbiamo una cosa di 17 giocatori... Ma questo è il problema... Ma dai... D'altro... Ascolta... Adesso io non è che voglio dare lezioni a nessuno... Però... Con un coronavirus che ti può... Effettivamente come è successo... Togliere all'improvviso dei giocatori... Certo... Magari stavano benissimo... Fino a che non hanno scoperto di avere il virus... E comunque... In un campionato che come ho già detto... Ti permette di fare cinque cambi... Tu la prima cosa che devi fare... Era una rosa lunga... Adesso io non sto qui a dire... Fino a 24 per farlo... Esatto... Io non sto qui a dire adesso... Perché non so la disponibilità economica che abbiamo... Come sono state effettivamente le trattative... Io questo non lo dico... Però ora come ora... È evidente che... Tra le squadre che risentono più di questa situazione... Ci siamo noi... Perché metti caso... Era come sempre... Tre cambi... E il virus che non c'era... Tu magari potevi sperare che... Ti andavano sempre bene quegli undici... Fino a un certo punto... E magari... Non facevi niente di che... Ma ti salvavi tranquillamente... Certo... Mesi col virus... Te sei trovato Gomez... Che è il tuo punto cardine dell'attacco... Fuori... All'improvviso... Si è visto... Che è mancato... Si infatti no... Io... È questo il discorso che... Me dà fastidio... Cioè... Partite come la San Benedettese... Che potevi tranquillamente averla pareggiata... Partite come il Modena... Che bastava un minimo... Un minimo di attenzione in più... L'avresti pareggiata... E oggi una partita che bastava un niente... Per averla vinta... Tu adesso avevi 5 punti... Invece che uno... Esatto... Cioè... Da fastidio sta cosa... Però... Vabbè certo... Si si assolutamente... Perché all'ultimo... All'ultimo... Io sono sicuro che... Se si giocava altri 5 minuti... Si facevano 2 a 1... Perché eravamo proprio crollati... Cioè... Alla fine è andata bene così... Raga... 1 a 1... C'è sta... Però... Ancora... Non è pensabile... Non è pensabile... Non è umanamente pensabile... Affrontare un campionato... Con 19 giocatori... Rosa... Che poi... Se succede quello che è successo al Genova... Con chi giocava un campo? Con Paperino? Cioè... Ragazzi... Cioè... Io... Vabbè... Comunque... Fateci sapere voi... Qua se ne vediamo... Tra quattro giorni giocheremo... Venedigio e domenica... Tra tre giorni giocheremo... A... Con... 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 A Bolzano con il Suttirolle... Senza Gomez... Al 99.9%... Quindi... Ragazzi... Preghiamo Dio... Preghiamo Dio... Perché senza Gomez... Non abbiamo il puntero... Che ti trova la giocata... Che ti segna... Magari... Magari... Oh ma... Un tiro da fuori... Però... Anche oggi... Come ho ripetuto prima... Se il portiere non faceva quella cappella... Che è stata la stessa cappella... Che ha fatto col Perugia... Cioè... Ha spinto in mezzo... Invece che buttarla da una parte... E noi... Non segnavamo nemmeno... Quell'anno del Samai... Nonostante che abbiamo avuto... Un sacco di occasioni... Però non l'abbiamo segnato... Esatto... E questo che dà fastidio... Vabbè... Dai... Vabbè... Un punto... Andiamo avanti... Andiamo avanti... Che merda... Che rottura dei coglioni... Ciao ragazzi... Buong solo... Ciao... Buongiorno... Grazie per la visione!